buongiorno ragazzi sono il prof di ginnastica oggi insegneremo danza classica alla maniera di grass allora per primo portarsi 3 e 7 panini al formaggio crudo prosciutto salame nutella tutto messo insieme poi portarsi 4 pacchi di patatine e 5 pacchi di pop corn e un po' di nutella infine per bere portatevi 5 coca cole estratè così e poi quando dovremo fare alla maniera di grass danza classica li buttate per terra e dormite questa è la prima lezione arrivederci a tutti